Terminato lo spoglio per l'Europa è alta l'affluenza alle urne, il PD conquista la leadership in regione, secondo il Movimento 5 Stelle e poi Forza Italia, rieletto l'eurodeputato uscente Aldo Patriciello. Il governatore Paolo Frattu risulta al risultato molisano del Partito Democratico, la vittoria di Renzi sarà allo specchio delle amministrative e la Fanelli soddisfatta ha vinto la voglia di ripartire. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo del 63enne colpito a morte dal fratello con un proiettile sparato da una calibro 9 che si trova all'obitorio del Cardarelli di Campobasso. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per acquisire elementi utili al ricostruire la dinamica del fatto di sangue. I pugliesi sono stati sconfitti di misura sul campo dei campani della Sarnese nei minuti di recupero e il ritorno si giocherà tra una settimana a Casalnuovo Monterotaro. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, apriamo il nostro telegiornale parlando di elezioni europee. Il Partito Democratico è il primo partito non solo in Italia ma anche in Molise. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle, poi Forza Italia e Aldo Patriciello riconquista il seggio a Strasburgo con 111.000 preferenze. Buona l'affluenza alle urne, al voto il 54,75% dei votanti. Sentiamo. Terminato lo spoglio per le europee, il PD si conferma primo partito anche in regione ma non sfonda come nel resto d'Italia. I Democratici si attestano sul 31,21% dei voti con oltre 46.000 preferenze. La più votata è Pina Picierno con oltre 3.600 consensi. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle, poco più di 41.000 i voti riportati, pari al 27,34% delle preferenze. E Pasquale Casmirro, il candidato campobassano dei pentastellati, è risultato in Molise il più votato, con oltre 9.200 consensi. Sul terzo gradino del podio Forza Italia, che riesce a conquistare più preferenze rispetto al trend nazionale. 35.000 i voti ottenuti dai forzisti, pari al 23,43% dei consensi. E tre candidati forzisti a recitare la parte del leone Aldo Patriciello, l'auro parlamentare uscente che riconferme il suo scranno a Strasburgo. Il politico Venafrano è primo nella circoscrizione meridionale, subito dopo Raffaele Fitto. Primo assoluto in Molise, con 111.000 preferenze riportate, delle quali quasi 17.000 in regione. Anche la campagna conferma la sua affezione per Patriciello. Fa flop invece in Italia l'IDV. 0,6% il dato medio nella penisola, mentre in Molise va un po' meglio, con il 2,43% dei consensi, pari a 3.658 voti. Di questi ne ha presi 726 il candidato schierato in Molise, il segretario del SAP è Aldo Di Giacomo. Con questi numeri l'IDV resta fuori da Strasburgo, così come Fratelli d'Italia, sotto il 4%, nonostante la buona performance dell'imprenditore larinese Domenico Zeoli, che ha preso 5.983 preferenze. Grande risultato, sono molto soddisfatto. È il commento del governatore Paolo Di Laura Frattura, risultato delle europee. Sentiamo. Grande risultato per il Partito Democratico, la sfida delle europee Renzi ha stravinto in barba tutti i sondaggi ed exit poll, che davano Grillo in poll position. In caduta libera, però, non solo Grillo, ma anche Forza Italia, in Molise il PD ha stravinto con un leggero calo rispetto al dato nazionale. Un po' al di sotto, ma 20 punti oltre il risultato di 5 anni fa, quindi non contento di più. Un segnale di apprezzamento per la prima forza di governo, che soprattutto proietta il PD, quale primo partito all'interno del PSI Democratico in Europa. Ritengo che questo sia un bel messaggio per il Paese e in piccolo anche per il Molise. La previsione invece per le amministrative è legata al risultato delle europee? Spero in coerenza con quanto espresso per le europee, soprattutto in considerazione che, insomma, al di là di una percentuale che poi mi pare più o meno confermata rispetto allo scorso anno, insomma, la politica non si fa soltanto urlando e criticando, ma si costruisce giorno dopo giorno, assumendosi le responsabilità, soprattutto quando sono o rischiano di essere impopolari. Eccezionale Renzi, fa grande l'Italia in Europa, fiera di essere stata al suo fianco. Dal primo momento il commento del segretario regionale del Partito Democratico, Michela Fanelli, ha vinto la voglia di ripartire, hanno vinto la speranza e la voglia di chi scommette sul futuro del nostro Paese. La Fanelli celebra così il trionfo del PD alle elezioni europee 2014. Il Partito Democratico ha conquistato più del 40% dei voti. In Molise, evidenzia La Fanelli, il Partito Democratico è stato il primo partito con oltre il 31% e 46 mila voti. Rispetto a cinque anni fa, quando avevamo il 12%, è un trionfo. E rispetto alle politiche del 2013 abbiamo raddoppiato complimenti agli eletti, Gianni Pittella, Pina Picerno e Elena Gentile in primis. Ora, conclude La Fanelli, bisogna rimboccarsi le maniche per il sud e per la nostra regione. Ha concluso così il segretario regionale del PD. Un risultato prevedibile è quello delle europee. Per il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, la speranza è che il risultato europeo non sia identico a quello delle amministrative. Sentiamolo. Non è andata come sperava il centro-destra la corsa per le europee. Terzo partito con un magro 19% Forza Italia. Nuovo centro-destra con un 4,38%, Fratelli d'Italia 3,66%. Le cose vanno forse poco meglio solo nella circoscrizione meridionale. Era prevedibile che Forza Italia sarebbe calata, ma anche alla luce di queste divisioni che ci sono state, sta intorno al 17%, 16,80% questo qua. E quindi era tutto prevedibile. Io mi auguro che questo risultato possa dare delle risposte alla nostra nazione, anche a livello europeo. Il risultato delle europee crede che sia anche lo specchio per quanto riguarda il risultato delle comunali? Mi auguro di no, perché altrimenti questo risultato delle europee fa pensare che ci può essere anche uno strascico per le comunali. Io mi auguro che non sia così, anche perché bisogna vedere se il centro-sinistra vince in prima battuta oppure si va al ballottaggio. Noi logicamente speriamo di andare al ballottaggio e di prendere un modo di più della lista di Forza Italia, di Di Bartolomeo e dei grillini per poter andare al ballottaggio, giocarcela tutta, anche al confronto ritengo tra Battista e Scasserra, ritengo che Scasserra possa prevalere su Battista. Buono anche il risultato della lista a Tsipras e Molise ha ottenuto il 4,54% dei voti e 6.816 preferenze, un dato che consente al partito guidato dal politico greco Alexis Tsipras di volare a Strasburgo. In testa nei consensi la scrittrice e giornalista Barbara Spinelli con 922 consensi. E ci spostiamo a Termoli dove il Movimento 5 Stelle si afferma come primo partito alle europee davanti al PD, un dato in controtendenza rispetto a quanto successo a livello nazionale. Sentiamo. A Termoli alle ore 23 di ieri hanno votato 20.419 elettori su 28.490 con un dato pari al 71,67%. La volta scorsa erano stati l'80,13%, 9 punti percentuali in più. Affluenza dunque leggermente in calo, ma del resto l'astenzionismo era un'incognita data in grande crescita. Si è conclusa dunque con un dato prevedibile ma non allarmante la lunga giornata elettorale. Se a livello nazionale il PD doppia il Movimento 5 Stelle, a Termoli la situazione è decisamente diversa. Il risultato delle urne è finito lo spoglio per le europee e dice che i grillini si confermano in assoluto il primo partito, con il 34,24% e si piazzano avanti di 5 punti percentuali rispetto al partito di Renzi. Che comunque riporta un ottimo 28,72%. A grande distanza c'è Forza Italia con il 17,6%, seguito a 5,57% da NDC UDC. A 4,65% c'è Tsipras e poi Fratelli d'Italia a N4,49%. Caduta libera dell'Italia dei valori che accusa un crollo vertiginoso solo l'1,62%. A chiudere come fanalini di coda ci sono altre tre liste. I verdi allo 0,78% e 145 voti. La debacca di scelta europea con lo 0,65% e 121 voti. E il io cambio mei con 0,19% e 36 voti. Il Movimento 5 Stelle dunque a Termoli attecchisce oltre ogni logica e guardando il dato nazionale è come se compisse un'impresa a parte. Quasi doppiato a livello nazionale dal PD, in città per le elezioni europee riesce ad aumentare i consensi percentuali rispetto alle politiche del 2013, dove furono capaci di stare sul 34% circa. Qui sulle 29 sezioni scrutinate raggiungono 6.335 voti, pari alla 34,24%. Intanto in città sale la febbre d'amministrative con lo spoglio che partirà dalle 14 di oggi e che presumibilmente potrà indicare chi andrà al ballottaggio non prima delle 21 di questa sera. E anche il segretario provinciale dell'Udc di Isernia, Mimmo Izzi, ha commentato i dati dell'europeo. Un ottimo risultato, quello ottenuto da Udc e Nuovo Centrodestra e Molise, ha detto con poco più di 6.500 voti ottenuti nella nostra regione abbiamo contribuito a superare la fatidica soglia di sbarramento del 4%, permettendo così a Lorenzo Cesa di ritornare nel Parlamento europeo. Un esito di cui non possiamo non essere soddisfatti se pensiamo al trend registrato in Italia, al fatto che in Molise, soprattutto nella provincia di Isernia, conoscevamo la forza del candidato locale di Forza Italia, Aldo Patricello. Ma i molisani, a concluso, hanno apprezzato la nostra campagna elettorale sobria, fatta senza urla e schiamazzi. Ed ora vediamo nel dettaglio le schermate con i comuni al voto in provincia di Campobasso e i candidati sindaci in corsa. Per Campobasso Antonio Battista, Luigi Di Bartolomeo, Michele Scasserra, Giuseppe Salupo e Roberto Gravina. A Termoli Angelo Sbrocca, Michele Marone, Remo Di Giandomenico, Paolo Marinucci, Nicola Di Michele. E per quanto riguarda invece i vari comuni, al voto Acquaviva Collecroce, con Mirco Antonio, Francesco Troilo, Luigi Berchicci, Campo di Pietra, Giuseppe Notar Tomaso, Gianni Barba, Nunzio Renzi, Campomarino, Vincenzo Cordisco, Francesco, detto Gianfranco Camilleri, Marcello Catena, Casa Calenda, Marco Gagliardi e Michele Giambarba, a poi per Castel Mauro Angelo Sticca e Anna Turco, Castro Pignano, Margherita Brunetti e Giovanni Sciarra. Cerce Maggiore, Vincenzo Testa, Alfonso Testa, Antonio Rocco, Tiziana D'Amico, Francesco Petraroia, con le danchise Rodolfo Spina, Annalisa Pace, Andrea Varone, Carletto Di Paola, Ferrazzano, Maria Assunta, Baranello e Antonio Cerio, Fossalto, Nicola Giovanni Manocchio e Nicola Cornacchione, Gambatesa, Carmelina Genovese, Pasquale Abiuso, Gildone, Nicola Vecchiullo, Giuseppe Di Lillo. E ancora Lucito, Fabiola De Marinis, Giovanni Galassi, Giovanni Marasca, Mafalda, Egidio Riccioni, Emilio Montano, Svaldo Bruno, Mirabello Sannitico, Luciano Di Biase, Antonio Lembo, Monaciglioni, Michele Turro, Giuseppe Giarrusso, Montagano, Loredana Zezza, Giuseppe Antonio, Mariano Detopino, Giuseppe Tullo, Montecilfone, Matteo Gissi e Franco Pallotta. E ancora Palata, Michele Berchicci, Angelo Del Gesso, Antonio Staniscia, Paolo Di Lena e Giulio Minchillo, Petrella Tifernina, Fulvio Di Liso, Alessandro Amoroso, Giorgio Prigioniero, Arriccia, Michela Fanelli, Carmina Mancini, Ripali Mosani, Giuseppe Di Nobile, Michele Di Bartolomeo, Rotello, Michele Miniello e Michele Perrotta, San Giovanni Ingaldo, Mario Piunno e Giancarlo Del Vecchio. E ancora San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, Felice Antonio Cirelli, San Martino Empensilis, Massimo Caravatta, Giovanni Di Matteo e Vincenzo Zio, Sant'Angelo Limosano, William Ciarallo, Pasqualino Greco, Sant'Elia Pianisi, Maria Saveria Reale, Stefano Martino, Santa Croce di Magliano, Giovanni Gianfelice, Enzo Rosati, Donato D'Ambrosio, Antonio Cirelli e Spinete, Andrea Romano. In ultimo vediamo Tavenna con Simone Spadanuda, Leonardo Del Gesso, Trivento Tullio Farina, Domenico Santorelli, in ultimo Tufara, Donato Pozzuto e Mario Lupo. E adesso vediamo nel dettaglio le schermate con i comuni al voto in provincia di Serna e i candidati sindaci in corsa. A Belmonte del Sannio Enrico Borelli e Gigi Sannese, Walter Paglione, Carovilli, Antonio Scinocca, Guido Milanese, Castel del Giudice, Lino Gentile, Angelo Mosesso, Castel Petroso, Angelo Armenti, Fabio Duva, Castel Verrino, Mino Pannunzio, Antonio Pannunzio, Emiliano Massella, Maurizio Misischia e Carmen Pannunzio, Accerro al Volturno, Remo di Anni, Elsa Ialongo. E poi a Chiauci, Adamo Cappiello, Filignano, Romeo Pacitti e Lorenzo Coia. A Fornelli, Giovanni Tedeschi, Immacolata Petrarca, Frosolone, Giovanni Cardegna e Filippo Russillo. A Longano, Antonio Ditri, Angelo Monaco, Antonio Berardi, Macchia Disernia, Nicolina Delbianco, Mario Domenico Stasi. E ancora a Macchia Godena, Alessandro Barile, Roberto Carile, Stefania Gentile, Felice Ciccone, Miranda Gaetano Marucci e Daniel Colaianni, a Monteruduno Custode Russo, Michele Biello, a Pesco Lanciano Domenico Padula e Mario Vairano, a Pesco Pennataro, Compilio Sciulli e Vincenzo Margiotta, Pettronello del Molise, Luciano Perna, Andrea Nini e Eugenio Procaccini. Pietra Abbondante, Giovanni Tesone, Florindo Zarlenga, Rionero Sarnitico, Giuseppe Fioritto e Antonio Minichiello, Rocchetta al Volturno, Lorenzo Fattore, Teodoro Santilli e Santagapito, Giuseppe Di Pilla e Alessandro Valletta. Sant'Angelo del Pesco, Nessuna Lista, Santa Maria del Molise, Franco Narducci e Erminia Mignelli. E poi in ultimo vediamo Scapoli con Renato Sparacino, Vito Livio, Izzi, Emilio Antonio Fagnani, Vasto Girardo, Andrea Di Lucente e Giovanni Di Vito. Adesso cambiamo argomento, apriamo con la cronaca. La vittima Vincenzo porta all'obitorio del Cardarelli. Il magistrato ha disposto l'autopsia, intanto l'omicidio. Il fratello Antonio è recluso nel carcere di via Cavour e sui consigli dei legali ha fatto scena muta all'interrogatorio. Sentiamo. Un dramma familiare, quello che si è consumato ieri nelle campagne di Campodipietra. Un fratricidio, l'epilogo di una lite tra i due fratelli e la porta originale di Cerce Maggiore. Il movente ai confini di un terreno in comune. Intorno alle 13 la vittima stava inserendo dei paletti nel terreno di famiglia. Quando l'assassino raggiunge il fratello, iniziano a litigare. Una lite che sfocia in quello che è il più efferato degli omicidi. Una lite furibonda che segue tanti altri episodi tra i due fratelli. Alle 13.30 la telefonata ai carabinieri che immediatamente raggiungono il luogo del delitto. Acciuffano l'assassino che stava scappando a bordo di un'altra autovettura, lasciando sul luogo l'arma detenuta, peraltro illegalmente. La vittima, Vincenzo La Porta, trasportata dai sanitari del 118, presumibilmente arriva al Cardarelli con il codice nero. Sarebbe forse già morto all'arrivo in ospedale. L'omicida non pensava di aver sparato l'unico colpo mortale che entra nel braccio sinistro e deviando il percorso recide la orta. Non risponde all'interrogatorio incredulo di quello che era successo. Antonio La Porta, l'omicidio, era già conosciuto ai militari per episodi di violenze negli anni 90, ma secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che sia stato implicato anche in altre vicende familiari. Intanto il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo e Antonio è recluso nel carcere di Via Cavour. La minacciata con un coltello l'ha trascinata con forza in casa sua e l'ha violentata con l'accusa di violenza sessuale. Un giovane rumeno sui 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Isernia ed è stata proprio la vittima a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, mentre il giovane, evidente stato di ebrezza, dopo la violenza dormiva. La 25enne ha trascorso tutta la mattinata al pronto soccorso del veneziale di Isernia per tutti gli accertamenti del caso. L'uomo invece è stato portato in questura per l'interrogatorio, successivamente in carcere. E ancora cronaca, un uomo di 44 anni, titolare di un night a Termoli, è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione. Stamattina la conferenza stampa degli uomini della squadra mobile. Faceva prostituire alcune ragazze, le faceva vivere in una struttura sporca e fatiscente dove per lavarsi bisognava riscaldare l'acqua. Una vita fatta di stenti e sofferenze a cui una di loro aveva deciso di dire basta tentando per la disperazione di suicidarsi. Il fatto era stato fatto passare per un incidente. Era drammatica la situazione di vita delle ragazze e scoperta dagli uomini della squadra mobile di Termoli che hanno arrestato il titolare e gestore di un night e sequestrato lo stesso locale. Sia l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari che il provvedimento di sequestro preventivo sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Larino Daniele Colucci su iniziativa del PM Luca Venturi. L'uomo, recidivo perché già arrestato nel dicembre 2010 dalla stessa Polizia di Stato per sfruttamento della prostituzione e successivamente condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, organizzava incontri a sfondo sessuali in appositi spazi del night divisi in separé, percependo dai clienti circa 15 euro per ogni 20 minuti di intrattenimento. In alcuni casi rapporti sessuali con l'intermediazione del 44enne avvenivano in alberghi e in questi casi la tariffa era di circa 250 euro. Le indagini sono iniziate nel 2012 e hanno accertato quanto avveniva nel locale attraverso le riprese, le dichiarazioni delle straniere sfruttate e dei clienti del locale. Per il titolare del night quindi sono scattate le manette. Il vice sindaco al comune di Isernia ad Achille annuncia che i danni provocati dai tifosi del Termoli allo stadio Lancellotta durante una partita di calcio contro l'Isernia li pagheranno gli Isernini e l'opposizione insorge. Vediamo. Lo sfogo degli ultra del Termoli Calcio che a Isernia il 7 aprile 2013 causò allo stadio ingenti danni costerà caro agli Isernini. Suona come una beffa la risposta del vice sindaco al comune Pentro Maria Teresa d'Achille all'interrogazione del consigliere di minoranza Raimondo Fabrizio in merito ai danni causati oltre un anno fa ai servizi igienici dello stadio Mario Lancellotta dai tifosi giallorossi. Gli atti vandalici prima della partita di calcio di Serie D tra l'Isernia e il Termoli Calcio quando alle provocazioni e aggressioni da parte dei tifosi dell'Isernia quelli del Termoli risposero con lanci di petardi, fumogeni e distruzione dei bagni pubblici del settore ospiti dello stadio. Ho depositato un'interrogazione per sapere come mai a distanza di un anno e mezzo degli scontri tra tifosi che ci furono durante l'incontro di calcio di Sernia-Termoli durante i quali i tifosi del Termoli danneggiarono non solo la pista di atletica ma soprattutto i servizi igienici del settore ospiti dello stadio Mario Lancellotta di Sernia il Comune di Sernia non ha intrapreso alcuna iniziativa o meglio mi è stato risposto la mia interrogazione tramite l'assessore D'Achille che il Comune di Sernia si era attivato per la richiesta dei danni però da come mi ha risposto l'assessore parrebbe che è stata fatta una richiesta di danni all'assicurazione del Comune quindi i cittadini di Sernia pagherebbero di tasca l'oro perché c'è una franchigia che prevede che al di là di una certa somma paghi direttamente il Comune i cittadini di Sernia oltre al danni alla beffa questo assolutamente non mi sembra né opportuno né legalmente previsto o meglio avrebbe fatto questa amministrazione a chiedere direttamente in qualità di responsabile oggettiva alla squadra del Termoli il risarcimento dei danni subiti dallo Stato questo era l'iter e non so perché non sia stato fatto Si è tornata questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Job Expo Molise 2014 una grande opportunità per i giovani Sentiamo Job Expo Molise 2014 è la manifestazione organizzata dalla regione in collaborazione con il coordinamento Euro S l'Agenzia Regionale Lavoro, l'Università, la provincia di Campobasso e Sernia e il Comune di Termoli per scoprire le opportunità in campo, lavoro, formazione e orientamento in fiera per i giovani molisani Job Expo Molise è la seconda esperienza ed è un'esperienza di politica attiva importante quest'anno ad oggi abbiamo oltre 1600 partecipanti di ragazzi iscritti fino a 36 anni al nostro sito che quindi entreranno in contatto con le oltre 60 aziende anche nazionali e internazionali che hanno aderito all'iniziativa Il lavoro tra formazione e orientamento per costruire insieme un futuro di opportunità anche in vista dell'appuntamento più importante del 2015 l'Expo di Milano Il nome Expo volutamente un po' lo richiama in realtà se ne distacca perché comunque è una fiera del lavoro però sicuramente noi immaginiamo dei ritorni anche in termini di organizzazione che possano sicuramente proficuamente portarci all'attenzione nazionale anche dell'Expo 2015 Certo perché Molise aveva già annunciato la presenza all'Expo di Milano Sì sì, ovviamente il tema portante dell'Expo 2015 è un po' differente tuttavia il lavoro è un insieme di cose quindi ci sono vari campi anche quello il tema proprio dell'agricoltura e del ritorno proprio sociale dell'agricoltura incide moltissimo anche sulle prospettive di lavoro infatti è uno degli argomenti su cui prestiamo attenzione anche nella formazione e nell'orientamento dei nostri giovani sulla garanzia E proprio in merito al Job Expo 2014 l'assessore al lavoro Michele Petraroi ha fatto sapere che per gli inizi di giugno partirà il programma biennale europeo della garanzia ai giovani che offrirà a 15.000 disoccupati molisani tra i 15 e i 29 anni un'occasione di formazione, accoglienza, orientamento, tirocinio, apprendistato, servizio civile o un bonus occupazionale per l'autoimpiego per un ammontare pari a 7,6 milioni di euro La Regione ha approvato il pacchetto giovani in cui istanzia 6,1 milioni di euro tra progetti di internazionalizzazione, credito di imposta per la conversione del rapporto di lavoro da precario a tempo indeterminato e per sostenere la creazione di nuove imprese giovanili Ed ora apriamo la pagina sportiva La gioventù calcio Dauna è stata sconfitta per 2-1 sul campo della Sarnese nella semifinale d'andata della fase nazionale dei play-off di eccellenza i campani sono andati in vantaggio al settimo minuto del primo tempo con Fantana Rosa il pareggio dei pugliesi è arrivato al quinto della ripresa con un calcio di rigore realizzato da Troisi il gol del 2-1 della Sarnese è arrivato nel recupero con Romano il ritorno si giocherà domenica prossima a Casalnuovo Monterotaro Un anno fa è stato portato via da un brutto male a soli 33 anni gli amici di Gianluca Fuso hanno deciso di ricordarlo il prossimo 31 maggio al campo Don Sturzo di Campobasso con un triangolare di calcio in cui si sfideranno il Campobasso 1919 una rappresentativa locale e la squadra dei suoi amici a partire dalle ore 16 Io vi ricordo dalle 15.30 dopo il nostro telegiornale la lunga diretta elettorale condotta in studio da Federico Mandato l'editore di Molise TV con collegamenti in diretta dalla prefettura di Campobasso con la collega Carla Ferrante e dal comune di Termoli con il collega Federico Cosenza a commentare i risultati delle elezioni amministrative Io vi lascio alle previsioni del tempo grazie per l'attenzione Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Previsioni del tempo per martedì 27 maggio Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque Da segnalare solo il transito di nuvolosità alta e stratiforme nonché la formazione di isolati fenomeni diurni sulla dorsale molisana Venti deboli settentrionali in attenuazione Mari poco mossi Temperature minime in calo con estremi di 16 gradi Massime stabili Vediamone nel dettaglio Campobasso minima 10 massima 20 gradi Isernia minima 13 massima 19 gradi Termoli minima 17 massima 22 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Il meteo è stato offerto da